Prima abbiamo rotto le scatole a The Peel Like a Wall E adesso è la principessa Giorgia Beh come sembra stavo dicendo Quel video non era normale Mio cugino Oppure uno Che era mio fan Che abitava E' andato nella mia città e poi mi ha detto Se fai un video della principessa Giorgia Ok Però adesso io sto insultando la principessa Giorgia Perché adesso Lei abita in Italia Credo Prendo sto martillo E la uccido Io sto va bene Con John Io sono con John E gli haters della principessa Giorgia Adesso Basta Perché Adesso la principessa Giorgia Ha rotto i coglioni 92 92 minuti di applausi Eh Sì Sì Adesso mi ha rotto i coglioni Perché prima Perché prima Insultavamo a A quella grande stronzetta Anche se mi sto facendo Rosso E sto piangendo Perché prima abbiamo insultato la La stronzetta Di nome E adesso la principessa Giorgia E adesso la principessa Giorgia E perché Fa schifo Fa cagare Non mi manda sui short Adesso mi chiamo Leon Brothers E la insulto Adesso Dopo che abbiamo finito Sto video Per la principessa Giorgia E che la chiameremo La puttanella Andate A vedere Lo short Dopo Di questo video No ma perché Adesso la sto insultando Se Poi mi arrivano Die Dieci commenti Undici commenti Che la principessa Giorgia È una dea Vai a fangulo Io Subito Vabbè stavamo dicendo Ascia Io subito la prendo E poi Spaccia Infine Sono sbattuto A questo A sto cosa La mongelli Da mia nonna Non c'è nessuno E Adesso Con la grande Stronzetta Abbiamo Finito Di insultarla Adesso Lasciamola stare E tocca La puttanella Di nome La La Principessa Giorgia Perché è una Cessa Oh Se il video Vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi Al canale E attivate La campanellina Ciao Ciao Belli Ciao